Iniziamo con un Flat Coated Retriever, Golden Retriever. Labrador, Cabo de Agua Portuguesa, Nova Scozia, Spring Spaniel Inglese, Lagotto, Perro de Agua Español, Colcherondie, Clumber Spaniel, Cocker Spaniel Inglese e Cocker Americano. Intanto per cortesì i migliori soggetti di razza del nono raggruppamento cani da compagnia sono pregati di raggiungere il pre-ring. Intanto abbiamo questo raggruppamento dove abbiamo i cani da cerchi, i cani da riporto e da acqua, quindi comprende anche tutti i retriever che sono ovviamente i cani che riportano la selvaggina e le razze di tipo Spaniel. Pre-selezione per il Cocker Spaniel Inglese, Cocker Spaniel Inglese per favore, Lagotto, Mettetevi no delle gamba, Grazia, Nova Scozia, Spring Spaniel Inglese, Labrador e Cabo de Agua Portuguesa. Vediamoli muovere, andate e ritorno per il Labrador che vediamo in questa colorazione del mantello che assume varie denominazioni, giallo, miele e via dicendo. Esiste anche una colorazione in mantello cioccole che è marrone e completamente nero. È una rivolta del cow d'agua portuguesa, come dice il nome, è un cane che viene utilizzato per il lavoro in acqua. Nova Scozia Duckton Retriever è il nome completo della razza, quindi appartiene ai retriever, quindi ai riportatori, quindi cani che hanno il compito di riportare la selvaggina. Appartiene invece la categoria degli Spaniel o Springer Spaniel Inglese. Razzia Italiana è il Lagotto Romagnolo. Ed infine il Cock Spaniel Inglese. Vediamo chi deciderà di far salire sul terzo gradino del podio, la nostra giudice. e precisamente il Labrador. Al secondo posto il Lagotto. e rivedremo in finale il vincitore che sarà il Cock Spaniel Inglese. Giro di ring per il Cock Spaniel Inglese. Giro di ring per il nostro pericolino del nostro paese. Per la miaла di far salire il nostro paese. Giro di ring per il nostro pericolino del nostro paese. Grazie a tutti! Giro di ring per il nostro paese. Giro di ring per il nostro paese. Grazie a tutti.